La società di oggi costruisce un mondo solo. E' quello che abbiamo ripetuto ieri, lasciandoci guidare anche dalle riflessioni che già da un po' di tempo stanno facendo luce, stanno facendo da apripista a questo nostro cammino, cioè le riflessioni di Don Luigi Maria Picoco nel suo libro La luce in fondo. Dicevamo ieri che questa società è una società che produce, costruisce solitudini. Perché? Qui riporto ancora una frase di Don Luigi Picoco. C'è una certa economia che funziona appositamente sull'infelicità della gente. Si compra qualcosa perché si sta male. E' veramente disumano questo. Cioè oggi in cui la regola centrale, il fondamento non è più la persona, ma è il profitto, è il mercato. Tutta la vita del mondo si basa sul mercato, tutta l'economia non è antropocentrica, cioè non ha come fondamento l'uomo, ma il profitto. Tutto, quindi anche l'economia deve costruire e produrre in maniera tale che tutti compriamo. Tutti compriamo. E quindi deve costruire una società di infelici. Quando noi stiamo male, quando noi viviamo senza vivere, senza comprendere quello che facciamo, ma quando sopravviviamo, molte volte cosa facciamo? Si scappa. E si va a comprare. Ci sono studi che hanno analizzato la patologia proprio dell'acquisto e, d'altro canto, anche la cosiddetta bulimia, perché noi cerchiamo di compensare i nostri vuoti affettivi, le nostre angosce interiori, comprando cose, cioè cerchiamo di riempire i nostri vuoti con il verbo possedere. E quindi è chiaro che se tu vai in un grande supermercato, tutto è fatto perché tu debba comprare. Tutto è fatto perché quando un prodotto mi viene presentato come la chiave della felicità, quando oggi vi è la cultura della competizione, cioè se io non sto a passo con gli altri, o meglio, se io non sono prima degli altri, se non arrivo prima degli altri, non valgo. E quindi competizione vuol dire vestire in un certo modo, investire in un certo modo, guadagnare in un certo modo, mangiare in un certo modo, frequentare certi posti. Tutto questo crea, appunto, competizione, crea senso del profitto e crea quindi anche non rispetto della dignità dell'uomo in genere. E questo crea infelicità. E l'infelicità crea solitudine e la solitudine crea anche sete, come ho detto, di acquisto, sete, di compensazione dei miei vuoti interiori. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.